Forse un dramma della solitudine dietro la tragica scoperta avvenuta nella serata di giovedì 17 agosto alla periferia di Taranto. Il cadavere di una donna di 62 anni in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto intorno alle 23 in via Orsini al quartiere Tamburi. Il corpo della vittima si trovava nel bagno del suo appartamento e presentava alcune ferite. Non sono note le cause del decesso. La polizia di Stato, intervenuta sul posto per compiere i rilievi del caso, sta ora indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto senza escludere alcune ipotesi circa la morte della donna. È stata dimessa dall'ospedale Santissima annunziata la madre del piccolo Lorenzo. Il neonato ha abbandonato lo scorso 12 agosto nei pressi di alcuni cassonetti di una via del centro di Taranto. Come già preannunciato nella giornata di ieri, la 24enne georgiana ha lasciato il nosocomio Tarantino. Secondo l'Ansa, la donna potrebbe ora essere accolta dalla Caritas diocesana, ma anche l'ambasciata georgiana in Italia ha restituito la volontà di prestarle assistenza. Il piccolo è ancora ricoverato invece nell'unità di terapia intensiva neonatale del nosocomio Tarantino. La 24enne avrebbe incontrato il figlio nel reparto in cui è ricoverato per allattarlo e potrà continuare a farlo in attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni sull'affidamento. Agli inquirenti avrebbe detto di sentirsi confusa e spaisata e di aver agito in un momento di smarrimento personale. Alla base dell'abbandono ci sarebbe stata la paura di perdere il lavoro da badante. La donna è attualmente indagata per abbandono di minore e potrebbe rischiare il carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sale il costo della benzina e la pulia ancora la regione con il prezzo più alto. 1,969 euro al litro al self, il gasolio è 1,847 euro. Il servito è ben oltre 2 euro. Secondo i dati restituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in Italia in Autostrada La Verde arriva in media a 2,019 euro al litro e il gasolio a 1,928. Mentre nella rete stradale ordinaria si spende meno, 1,939 euro in media per la benzina e 1,827,7 euro per il diesel. E polemica sulle tasse della benzina nel nostro paese infatti risultano le più alte d'Europa. Valgono oltre la metà del prezzo finale. Tra IVA al 22% e accise varie si arriva in Italia al 56,6% del costo della verde e al 51,8% di quello del diesel. La più elevata in assoluto per il gasolio è la seconda per la super, dove l'Italia è seconda dopo la Finlandia. Sull'emergenza Covid, Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consigliere regionale PD, già assessore alla sanità della regione Puglia, torna a parlare. In una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno avverte il Governo. Dica che il virus c'è ancora. Per l'autunno, spiega Lopalco, assisteremo allo stesso scenario visto durante le stagioni passate. Non ci sono segnali che indicano una mutazione del virus. L'immunità della popolazione è molto ampia. Il Ministero della Salute avvierà una campagna vaccinale che, secondo l'epidemiologo, risulta necessaria. Bisogna ripetere che chi ha sintomi deve fare il test, aggiunge Lopalco, e se si riscontra la positività deve stare a casa per evitare il diffondere del contagio. Se una persona ha sintomi di tipo respiratorio conclude Lopalco, sarebbe bene che indossasse la mascherina. Parte un nuovo anno accademico e ricomincia la corsa agli alloggi da parte degli studenti fuorisede. Non lavoratori e universitari dovranno affrontare i rincari dei prezzi in molte città. L'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insight, società del gruppo di Immobiliare.it, ha stilato una classifica delle stanze singole più care e ha fatto lo stesso con i posti letto. Bari è al 14esimo posto in Italia, risultando la città più cara al sud per le università ricerca di alloggio assieme a Napoli, con una richiesta media di 356 euro al mese per una singola, con un rincaro negli ultimi 12 mesi del 29%. La città più cara d'Italia, invece, con il costo della vita più alto, resta Milano, con una singola 626 euro e un prezzo medio di un posto letto in doppia di 348 euro. Poi in ordine, Bologna, Roma e Firenze. I falchi della squadra mobile di Taranto, durante i servizi di controllo per il contrasto allo spaccio nel territorio tarantino, hanno riconosciuto, mentre percorrevano la strada statale 7, un uomo noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, mentre era a bordo di un'auto. Bloccato per un controllo, il 35enne, prima di arrestare la corsa, ha lanciato dal finestrino un involucro bianco che è finito in un appezzamento di terreno sottostante il cavalcavia che stava percorrendo. La mossa non è sfuggita ai colleghi che stavano seguendo da lontano il 35enne. Recuperato l'involucro, gli agenti hanno rinvenuto all'interno 50 grammi di cocaina pura. L'uomo è stato arrestato. L'Italia si avvia verso un weekend infuocato con picchi di temperature fino a 40 gradi. L'anticiclone africano Nerone, infatti, arriverà nel nostro paese espandendosi dal Marocco verso le regioni settentrionali. Nel fine settimana si registreranno punte di 40 gradi sulle zone interne del centro-sud, nelle isole maggiori e in pianura padana. Il grande caldo dovrebbe poi essere spazzato via da una perturbazione atlantica poppea in arrivo a fine mese tra il 26 e il 27 agosto. Poppea dovrebbe arrivare con temporali, nubi fragili ed elevato rischio di grandine, soprattutto al centro-nord. Luca Crecco, il centrocampista rosso-blu ex Lazio e Pescara, passa ufficialmente dal Taranto a Latina. Ad annunciarlo nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 agosto, è stata proprio la società rosso-blu con un comunicato ufficiale. Crecco, giunto in riva all'Oionio nella sessione invernale dello scorso calcio-mercato, torna così a giocare vicino casa. Il ragazzo è nato a Roma e lascia momentaneamente lo staff di Ezio Capuano dopo aver messo a referto solamente otto presenze durante l'ultima stagione calcistica, condita sicuramente da qualche infortunio muscolare di troppo che hanno impedito al calciatore di mettere in evidenza le sue ottime doti tecniche. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.